Che dire di Caroselle? È un classico e quindi la riscoperta di questi classici aiuta anche il pubblico a scoprire un mondo che è quello del musical americano, che in Italia si fa poco. Non a caso questa è una prima assoluta in Italia. Caroselle è uno spettacolo un po' retro se vogliamo. Fa parte di quella schiera di musical alla Sette Spose per Sette Fratelli, Oklahoma, eccetera, che fanno parte del pre-West Side Story. Però contiene molti elementi che poi ritroveremo anche nei musical successivi. Ad esempio un grande balletto, la durata di circa 10 minuti, che però porta avanti la storia. Il mio lavoro è stato proprio questo, cercare di mettere in scena delle coreografie che proseguissero quello che la storia vuole raccontare. Abbiamo un corpo di ballo di 16 danzatori, a cui si aggiungono tutto l'ensemble della BSMT numerosissimo, quindi abbiamo circa 50-60 persone in scena, compresi i ruoli principali. La collaborazione con la scuola è molto importante perché scopriamo tanti talenti e i protagonisti di questo musical sono collaboratori ex allievi della scuola, ma che ormai sono professionisti che calcano i palcoscenici non solo in Italia ma anche in Europa. Musiche bellissime, cioè la possibilità per i nostri allievi di lavorare qui con tutto un contesto professionale, tecnici, musicisti, il maestro che dirige. Siamo assolutamente alle stelle per una possibilità di lavorare in questo contesto. Noi vi aspettiamo al Teatro Comunale perché vuol dire scoprire veramente un grande tramite tra il mondo della lirica, l'operetta e il musical classico.